Giulio Sabbi, bentornato Giulio dopo una stagione in Cina, per noi è un piacere rivederti in Italia ovviamente. In generale cosa ne pensi della partita di questa sera? Perché è stata una partita combattuta con tutti i set che sono terminati i vantaggi, quindi cosa vi è mancato? Ci è mancato di vincere, perché la stiamo cercando, ci stiamo provando. Oggi più che mai comunque abbiamo cercato di lottare, di giocare alla pari con Monza. I nostri soliti errori, le nostre solite mancanze, ci hanno fatto perdere la partita. Coach Bobankovac, prima della partita chiedeva soprattutto di dimostrare l'atteggiamento giusto questa sera. Credi che ci sia stato? Quello era fondamentale perché venivamo da un periodo in cui l'atteggiamento ci è mancato. Ci è mancato, quindi oggi secondo me o qualcosina in più ce l'abbiamo messo e speriamo di riuscire a fare questa benedetta vittoria prima che finisca la regola al season perché così diventa soprattutto deprimente per noi perché comunque in palestra sacrifici ne facciamo tanti, ci alleniamo sempre duramente. Però non riusciamo a mettere, la domenica non riusciamo a mettere quello che facciamo in allenamento. Allora in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crepi, grazie. Liberiamo Giulio Sabbi, grazie e restituisco la linea a Rodolfo Palermo.